Questa intervista è parte della serie di interviste condotte a persone che hanno fatto da mediatori culturali per la ricezione di Virginia Woolf in Italia per il progetto di ricerca Virginia Woolf and Italian Readers finanziato dall'Unione Europea con una borsa Marie Curie nell'ambito dei progetti di ricerca e innovazione Horizon 2020. Oggi ho il piacere di intervistare Nadia Fusini che è professoressa di letterature comparate alla Scuola Normale Superiore di Pisa e è senz'altro tra le massime critiche traduttrici in Italia di Woolf. Ha tradotto e curato molti autori inglesi tra cui John Keats, William Shakespeare, Samuel Beckett, Mary Shelley e ovviamente Virginia Woolf. Nel 1998 ha curato i due volumi dedicati a Virginia Woolf nella prestigiosa collana Meridiani di Mondadori. Le sue traduzioni hanno anche vinto numerosi premi, cito solo il premio Mondello per la traduzione di The Waves che apparve nella bellissima e prestigiosa collana voluta e poi diretta da Italo Calvino, scrittori tradotti da scrittori per Einaudi. Nel 2006 ha anche pubblicato Possiedo la mia anima, il segreto di Virginia Woolf per Mondadori che è proprio di recente appena stato riedito per i tipi invece di Feltrinelli che è una sorta di biografia di Virginia Woolf ma molto particolare, poi magari oggi ne parleremo. Nel 2017 ha anche vinto il premio Europa per la sua attività letteraria. Infine è direttrice della collana di traduzione delle opere di Shakespeare per Feltrinelli, collana per la quale lei stessa ha curato e tradotto diverse opere di Shakespeare e infine ma non per ultimo è fondatrice e presidente della Italian Virginia Woolf Society e quindi io sono particolarmente felice finalmente di intervistarti Nadia. Allora parto con la mia prima domanda che non può che essere come nasce tutto questo? Ricordi quando ti sei avvicinata per la prima volta a Virginia Woolf e in che modo ti sei avvicinata a lei? Intanto mi fa molto piacere di parlare con te Elisa perché condividiamo questa avventura della Italian Virginia Woolf Society. Ecco allora come è nato? Allora io ricordo che il mio primo rapporto con la Woolf parte da Flash perché me lo regalò per un mio compleanno avevo avuto 13 anni, adesso non mi ricordo esattamente, la zia Margherita che era la più piccola delle sette sorelle della mia famiglia materna. Io adoravo i cani, avrei tanto voluto un cane ma la mia mamma era molto severa, in casa non si potevano tenere i cani e quindi non poteva averlo e la zia Margherita mi regalò Flash. Io ricordo che l'ho lessi veramente in italiano con grande passione e così incontrai Woolf per la prima volta. La lettura però dei suoi diciamo romanzi più famosi e poi quelli che ho anche tradotto è più tardi, io ero in quegli anni, negli anni 80 credo a Cambridge a studiare eccetera, King's College e lì incontrai l'ultimo sopravvissuto di quel periodo meraviglioso di Bloomsbury che era George Rylands, ovvero detto Daddy, che è uno di quelli che aiuta i due lupi nella Ogart Press. Lui è un giovane ragazzo che studia a Cambridge e va ad aiutare i due lupi nella casa editrice. Mi ricordo che io incontravo Daddy nella combination room di King's College e sapeva che io ero una studentessa italiana eccetera, diventammo amici, lui aveva già una certa età in quegli anni e mi fece vedere le sue stanze dove era venuta a stare Virginia quando fece le due famose lezioni che poi diventano una stanza tutta per sé e Daddy mi raccontava che uno dei suoi primi lavori fu di attaccare con lo spunto una label sul libro. Dico ma che libro era Daddy? It was the wasteland. Non so, era gravidoso stare con Daddy. Ecco e fu lì poi che io iniziai a lavorare appunto nella biblioteca del King's College a lavorare su Virginia Woof per i due meridiani e devo dire che feci tante conversazioni con Daddy che mi aiutava, era di uno snobismo efferato, doveva essere bellissimo da giovane, era ancora molto bello da vecchio quando io l'ho conosciuto, ma insomma tante cose me le ha insegnate lui, frequentando le sue stanze dove mi faceva vedere le porte che aveva dipinto, aveva preparato le stanze per quando era venuta a Virginia e Carrington l'aveva chiamata, l'aveva fatto dipingere eccetera e quindi sono stati anni devo dire molto belli per me questi della traduzione, della preparazione diciamo di questi due volumi della collana meridiani a cui tu alludevi prima. Quindi l'incontro vero, vero, vero con Virginia Woolf è stato quando ho cominciato a tradurla. Certo, senti prima ancora di parlare dei meridiani mi piacerebbe che tu mi raccontassi proprio della prima esperienza di traduzione quindi con Alfaro che è stato il primo romanzo che tu hai tradotto di Virginia Woolf e intanto la domanda se fu un'idea tua quella di tradurre il romanzo o se invece fu Feltrinelli a chiederti di fare la traduzione e perché iniziassi proprio con Alfaro tra tutti i romanzi? Io credo che a quei tempi era direttore editoriale della Feltrinelli un uomo meraviglioso che poi è diventato un amico purtroppo è morto molto presto che si chiamava Franco Occhetto e lui in realtà mi chiese di fare, io avevo scritto con loro per una collana loro già un testo, ecco mi devi controllare Elisa perché la mia memoria ogni tanto, ma sono sempre stata così, non è un segno di semività, non metto a posto le cose negli anni, mi ricordo tutto ma ecco io avevo fatto per loro un libro che si chiamava Nomi in cui ragionavo appunto della scrittura delle donne, naturalmente uno dei capitoli di questo libro era dedicato a Virginia e lui mi disse perché non mi scrivi una biografia della Wolf e io dissi no, non me la sento, mi sembra impossibile però appunto cominciai invece a fare il lavoro di traduzione per loro, poi feci prima Alfaro e poi alla signora Dalloway come tu ricordi. Certo, certamente. Ecco, un'altra domanda che volevo farti, oggi Virginia Woolf è senz'altro parte di un canone della letteratura, non solo mondiale ma anche in Italia è considerata come una scrittrice che fa parte del canone ed è anche nel canone delle letture italiane, nel senso che il tuo lavoro per i meridiani l'ha poi inserita in quel canone. Mi chiedo però, quando hai iniziato a tradurre, era già così canonica? Aveva già questo ruolo così canonica? No, assolutamente no. Anzi, io ho capito, cioè quando ho cominciato a tradurre, quindi l'ho cominciata a leggere in inglese, mi sono meravigliata di come mai la zia Margherita, la zia Gilda amassero tanto questa scrittrice perché non mi pareva che fosse assolutamente nel range del loro gusto, visto che leggevano presa poco solo De Lì e Liala. Poi ho capito perché le traduzioni italiane che esistevano allora avevano fatto un grosso lavoro per ammorbidire tutto il modernismo della Woolf e quindi era stata tradotta in un italiano molto elegante, più che altro un fiorentino colto diciamo, smussando tutte le difficoltà proprio anche al lettore, perché per esempio vi ricordo che mi colpì moltissimo e poi quando io non avevo letto in italiano la Woolf, quando poi andai a rivedere certe cose vedevo che non so, To the Lighthouse, a parte il titolo, ma diciamo c'erano anche, non so, se lei diceva Children veniva sempre tradotto I miei piccini, ma perché I miei piccini? Cioè era chiaramente un ingentilimento, no, di una certa, perché in qualche modo c'era una specie di ideal tipo della scrittrice colta, gentile, non so, intellettuale, raffinata e quindi le si attribuiva una lingua femminile tra molte virgolette. Ecco, il mio tentativo in fondo, appunto con Alfaro per esempio, è stato proprio subito, da subito quello, io sentivo che la sua lingua era invece una lingua molto moderna e niente affatto riconducibile a una lingua preziosa o femminile, appunto, no? Mi ricordo che il più grande complimento che mi fece fu un'amica, un'americanista che insegnava a Venezia a quei tempi, a Lide, a G. Demetrio, che mi disse, ma sai Nadia che mi sono accorta leggendo la tua traduzione che è che Virginia Woolf è una scrittrice modernista. Ecco, questo mi fece tantissimo piacere perché in fondo volevo, appunto, liberare un po' la sua lingua da questi accenti femminili, diciamo. Ecco, questo mi interessa in modo particolare perché più volte, quando sei stata invitata in televisione o alla radio a parlare di Virginia Woolf, soprattutto quando ancora non l'avevi tradutta, quindi non avevi ancora lavorato così a fondo sulla sua lingua, magari ci stavi lavorando a livello personale, però ecco, non ancora a livello istituzionale, continuavi a sottolineare di come il femminismo di Woolf fosse presente a partire dalla sua prosa, mentre la narrazione dominante in quell'epoca era un'epoca di grande fermento femminista, perché io parlo ad esempio di una trasmissione che andò in onda nel 1979, si parlava molto dei suoi saggi, cioè del pensiero femminista di Woolf, quindi sia nella stanza tutta per sé, nelle tre guinee, in Professions for Women, mentre tu sottolineavi fin dal principio di come la sua essenza di donna e di scrittrice donna fosse presente già nei romanzi. Ecco, però io mi chiedo, quanto della tua esperienza e della tua pratica femminista che hai fatto ad esempio col Centro Culturale Virginia Woolf a Roma, che ruolo ha giocato questa tua esperienza, questa tua pratica femminista nella capacità di comprendere questa presenza di femminismo, ma proprio intesa come presenza della voce, della simbolico femminile nelle parole di Woolf? È una domanda difficile, in un certo senso la lettura appunto delle opere della Woolf è andata, se anche temprata diciamo, al fuoco di quel momento particolare che fu l'esperienza del Virginia Woolf dove si discuteva molto delle scrittrici donne, della scrittura delle donne e nel mio libro io faccio proprio questo esperimento di riportare all'attenzione la grandezza di certe donne scrittrici che si riconoscono come donne nel mentre scrivono, perché ce ne sono anche altre che sono grandi, ti faccio un esempio, Margheriti Usenar non voleva, non gradiva affatto di essere, come dire, catalogata tra virgolette come una donna scrittrice, lei aveva una, pur essendo una donna che amava le donne, che vive con un'altra donna, quindi ha un'esperienza della relazione con le donne, aveva una postura molto più universalista diciamo, non so, no? Mentre la Woolf, la cosa che a me ha incantato sempre, parte proprio radicalmente da una postura di differenza, no? accetta di essere una donna e pensa che il suo essere una donna influenzi o abbia un, abbia, come dire, si dimostri nella sua scrittura. Addirittura lei non è un caso anche che ha una grande attenzione alla scrittura delle donne, per esempio lo si ritrova nei suoi saggi, nei suoi diari, no? L'attenzione anche a donne a lei contemporanee, come alla Catherine Mansfield, come alla Richardson, no? Lei segue con molto interesse questo romanzo a puntate, diciamo, Pilgrimage, no? Della Dorothy Richardson e la recensisce, la segue, perché sente che quella è una donna scrittrice che tenta di portare nella scrittura un timbro che è proprio della donna, no? E questo addirittura in un saggio che scrive su di lei dice che appunto la Dorothy Richardson tenta di creare la frase femminile, che è una frase molto interessante da parte della Wolf. Ecco, che cos'è la frase femminile? C'è un modo particolare che ha la donna di usare la lingua? Allora, in un certo senso, noi vediamo che la sua ricerca nella scrittura parte proprio sempre, no? Da delle donne, ed è di donne che cerca di riportare sulla pagina il pensiero. Ecco, allora la signora appunto Dalloway, la signora Ramsey, Orlando, eccetera. le sue, le eroine che crea, sono donne e quello che vuole in qualche modo far emergere un pensiero della vita, del vivere, delle donne. Ecco, e naturalmente deve un po' forzare la lingua. Quando uno cerca di capire questa idea della frase femminile, la cosa molto interessante, se tu pensi al faro, qual è la grande differenza appunto tra la signora Ramsey e il signor Ramsey? La signora Ramsey, diciamo, parla e filtra la realtà attraverso una emozione e ordina la sua relazione con la realtà non attraverso la logica, no? Non che parli avanti, diciamo, no? Ma in un certo senso la sua lingua è più giocata sull'immaginazione o sulla, o non tanto sulla logica, ecco, non c'è un soggetto ordinatore. Questa è un po' la frase dell'uomo, no? Che mette un soggetto che organizza la realtà attraverso delle sequenze logiche, come tenta di fare il signor Ramsey, no? E in quel romanzo. Guarda, io sto proprio in questi giorni, in queste ore, direi, lavorando proprio sulla tua ritraduzione, diciamo, sulla tua traduzione di Alfaro, confrontandola con l'originale di Celenza e quello che vedo proprio emergere è, al di là di tutto, un lavoro sulla scelta dei termini, sulle parole, eccetera, però anche questo grande lavoro sul ritmo che fai, no? Che è senz'altro fondamentale in Wolf. Lei lo dice, chiaramente, nei suoi diari, nelle sue lettere, no? Lo stile è solo ritmo. E come lavori quando traduci il ritmo di Wolf? Perché spesso sembrerebbe facile, no? Ribalto, uso la stessa punteggiatura, gli stessi punti e virgola, metto il punto dove lo mette lei e bene o male do lo stesso ritmo. Però, ovviamente, l'italiano non ha lo stesso ritmo dell'inglese, quindi non funziona così. No. Quindi, come... Cioè, intanto, credo che la traduzione è un atto, diciamo, che implica una grande capacità di sopportare il negativo, direbbe Kitz, cioè di sopportare lo scacco, ecco, il fallimento, non si è mai contenti di quello che si è fatto. Io, per esempio, mi accorgo che ogni volta che riprendo un testo della Wolf, vado sempre all'inglese e in un certo senso lo ritraduco sempre, no? Lo ritraduco anche se l'ho già tradotto, perché in un certo senso quella frase oggi mi suona in un modo diverso da allora, no? Quando l'ho tradotto, ma soprattutto perché colgo forse altre sfumature che magari nella prima traduzione non avevo trovato. Io mi ricordo, per esempio, con che fatica, no? Beh, poi Leonde è stato unicidiale, perché veramente Leonde è un testo tutto di puro ritmo e quello che dico sempre, no? Quando parlo della traduzione è che è una specie di operazione di ingegneria genetica, no? Perché in realtà facciamo nascere, partoriamo una creatura che non è nata dalla nostra lingua, cioè non c'è nessuno, non c'è Virginia Woolf italiana, no? Cioè non è... Per quanto poi noi cerchiamo anche di capire come possa aver influenzato certi scrittrici o scrittori, ma non è semplice, no? Perché in realtà l'italiano non partorisce quella lingua lì, non partorisce quella creatura lì, no? Per cui è veramente un po' forzare, no? Una lingua. Le lingue non giocano nello stesso modo. Allora quello che in inglese appunto risulta, no? Leggero può diventare pesante quando tu cerchi di riprodurlo in italiano. Quindi ecco, è una... Secondo me è un'operazione che non finisce mai. Quello che io mi sono accorta sempre più nel passando gli anni è che ho più libertà. Una volta cercavo di essere proprio molto letterale. Adesso mi accorgo che certe volte devo, non so, ripetere, anche se nell'originale la ripetizione non c'è, ma mi viene spontaneo perché voglio far capire che lì c'è un accento scherzoso, per esempio, no? Oppure, ecco, variare. Ecco, io penso che la cosa più difficile della traduzione della Wolf è rendere certe sue... Lei usa molto il gerundio, per esempio, no? Usa molto il verbo in questo movimento che non si specifica né presente, né futuro, né passato, no? Allora, e spesso usa il gerundio, si trasforma in un sostantivo, ma se lo si fa in italiano non funziona, per esempio, no? Quindi, non so, bisogna essere protetti dalla fortuna, non so, o da Dio, non lo so da chi, però è molto difficile e noi penso, e tu lo sai, insomma, forse ecco, quello che possiamo fare è avvicinarsi il più possibile, ma non sostituire. Ecco, a me è interessato, grazie perché questo discorso è interessantissimo e mi ha interessato una cosa che hai detto, che hai scritto, in realtà, a proposito della traduzione della Yursenar delle onde, visto che proprio citavamo, citavi prima, Margherita Yursenar, tu dici che effettivamente Yursenar traduce alla fine con quella che è la sua voce, cioè si prende quelle libertà che tu dici, forse adesso riesco a prendermele di più, perché mi chiedevo, da un lato, come hai fatto a resistere, a non imporre la tua voce, no? E un po' mi hai già risposto, cioè tutto questo tentativo, questa lotta che si fa con la lingua stessa, per far sì che rimanga la voce di Wolf, ma che sia trasformata in italiano. E poi mi chiedevo se il ritmo così importante, questa lingua così nuova di Wolf, su cui tu hai lavorato così tanto, ha influenzato anche te come scrittrice, perché non dimentichiamo che sei anche scrittrice, oltre che traduttrice, quindi come si coniuga questa cosa? Dunque, intanto la Jursenar è interessante, l'operazione che fa con le onde, io in certi momenti, quando ero proprio disperata, e non sapevo come fare qualcosa, sì c'era già una traduzione di Milo de Angelis, mi pare, Milo de Angelis, sì, magari andavo a vedere lì, come aveva risolto un certo passo, e lui devo dire che non salta mai nulla, però certe soluzioni non mi parevano giuste. Allora andavo a vedere, non so, la traduzione della Jursenar dalla francese, e la Jursenar era molto furba, tutti i passi più difficili risaltava, ma perché aveva una libertà da grande, scrittrice qual'era, voglio dire, naturalmente questo non vuol dire che non renda con un'assoluta, con uno smalto proprio, le onde in francese, e lo capisce davvero, cioè si sente che è un testo che per lei conta e tenta di fare il meglio, però a certi passi, che erano un po' troppo complicati, li abbandonava. Ecco, lì c'era appunto una posizione di servizio presa da lei rispetto a questo testo, ma c'era anche la tracotanza della grandissima scrittrice, che in un certo senso non sta tanto lì a farsi tanti problemi, diciamo. Nel mio caso, la mia venerazione era tale che io avrei voluto, non avrei mai usato di sostituire la mia voce alla sua. Al contrario, io penso che io ho trovato la mia voce attraverso di lei, che non è esattamente la sua, ma in un certo senso lei mi ha autorizzato a farmi autrice. Quello che lei dice di sé quando dice che la frequentazione di certe donne scrittrici che per lei sono appunto Lebron o la Elliot, eccetera, l'autorizza a farsi autrice lei stessa, perché abbiamo bisogno anche per riuscire a fare quello che siamo portate a fare, anche un po' di autorizzazione, e l'autorizzazione a una donna non la può dare un uomo, davvero lo penso, no? Anche perché loro sono molto avari di autorizzazione, diciamo, e preferiscono tenersi per sé tutto quello che possono, diciamo. Ecco, però, a parte questo, è una grande forza avere alle spalle appunto donne che hanno fatto la prova della scrittura, no? È una grande forza per trovare anche la propria lingua. Ecco, allora, prima ancora, avrei voluto parlare dei meridiani prima, ma visto che stai dicendo, che stai parlando di questo, vorrei invece parlare prima di Possiedo la mia anima, perché è un libro scritto con la tua voce, ma nel quale si sente la voce di Virginia. È una sorta di interior monologue tra te e Virginia Woolf, perché appunto tu racconti la biografia di Virginia Woolf, però, intanto lo fai non a partire dal materiale storico-biografico, quindi non da archivi, documenti, eccetera, come lavora normalmente uno storico, ma parti dalla sua opera. E questo è già un'operazione molto interessante. E in più racconti questa biografia rivedendo un po' lo stile della biografia, del resto come fare altrimenti con una scrittrice di biografie come Virginia Woolf che ci ha offerto Flash, ci ha offerto Orlando e poi ci ha offerto anche Roger Fry, quindi tre biografie molto diverse tra loro. E quindi ti chiedo come nasce l'idea di questo lavoro, nasce subito come idea di biografia, nasce prima come lavoro artistico, creativo? Beh, quando appunto ho deciso poi di accettare questa sfida di scrivere la biografia della Woolf l'ho fatto con la consapevolezza però che io avevo di fronte una scrittrice la quale rispetto alla forma biografia fa delle osservazioni molto, molto interessanti. Lei scrive molto anche di The Art of Biography, The New Biography, scrive dei saggi in cui ci racconta come noi sappiamo tutti che dietro alle spalle c'è il padre che è il grande estensore del dizionario delle biografie solenni diciamo, patriottiche eccetera, in cui ci sono soprattutto maschi ma poi ci sono c'è qualche donna ma poche donne ecco ma lì c'è proprio come dire è il non so una specie di idea monumentale no e patriottica delle grandi personalità che bisogna tenere presente nella memoria giustamente nessuno ecco ma un po' come da noi la Treccani non lo so ma certamente a me quel tipo di biografia non mi interessava e avevo poi tra l'altro in quel momento c'è anche letto delle cose della Anna Arendt è molto interessante anche la Arendt su questo punto no insomma cioè è più facile fare in qualche modo la biografia di uno statista di un condottiero di un imperatore non lo so perché ci sono le gesta diciamo quella nella concezione eroica alla Carlyle heroes che appunto i grandi uomini della storia sono tutti eroi basta mettere in fila tutte le loro azioni ma sai nel caso di una di una scrittrice intanto di una donna e poi di una donna che fa la scrittrice e non la statista diciamo è un po' difficile quindi quella English style come lo chiama l'Arendt non avrebbe funzionato e poi appunto c'erano le le sue osservazioni no quelle quelle brevi come dire scritti che lo sketch of the past o il blues cioè quelle materiali in cui lei riflette proprio sul suo rapporto con il passato allora a me mi aveva colpito molto e anche poi nel diario questa osservazione che lei fa sul fatto che in realtà la sua vita è nei romanzi lei a un certo punto dice io non avrei mai potuto descrivere James l'attacco meraviglioso del faro con la signora Ramsey con il braccio il bambino e il padre che passa il bambino che si rigidisce in braccio la madre ecco non avrei mai potuto scrivere quella scena diciamo quel passo se non mi fosse ricordata di me in braccio la mamma allora io ho dato lei dice le mie i miei ricordi le mie sensazioni a James quindi in un certo senso la mia vita è servita a fare il romanzo ecco allora è questa la come dire la peculiarità di uno scrittore di una scrittrice che la sua vita alla lettera si versa nell'opera allora per ritrovare la wolf la wolf che a me interessava la wolf scrittrice ecco io ho giocato più con le opere che con semplicemente i fatti che avrei potuto come giustamente tu dicevi all'inizio cioè una storica non avrebbe fatto certamente così no? sarebbe andata giustamente avrebbe iniziato con Adeline Virginia Stephen nacque esatto c'erano già delle biografie da questo punto di vista quella del nipote va benissimo no? c'è quella meravigliosa di Hermione Lee no? che è veramente giorno dopo giorno naturalmente io l'ho letta e ho anche e l'ammiro l'ho ammirata ho conosciuto ma è lì è una donna straordinaria ed è appunto quel genere di biografie che ormai in Inghilterra si fanno anche sugli scrittori no? non so la biografia di non so Samuel Beckett che è un uomo di pochissime parole e poi non so non ha non credo non di grandigesta non so sono duemila pagine no? perché il biografo ti racconta il giorno mercoledì alle sette di mattina preso e la barca scese non so ecco ecco che hanno un loro fascino io personalmente che ho un rapporto molto 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 difficile col tempo e non lo domino non lo controllo non mi perdo ecco mi perdo no? perché non perché non riesco e poi troppo materiale poi non riesco nemmeno a riceverlo no? ecco di una ecco della vita della Wolf di Virginia io volevo in qualche modo cogliere come come si rifrange nell'opera no? come e come si riversa lì no? ed è un'energia di vita che diventa parola e questo a me affascina molto certo beh ma affascina direi tutte le lettrici e tutti i lettori perché poi Possiedo la mia anima ha ricevuto un successo non solo di critica ma anche di pubblico sia nella prima pubblicazione ma anche adesso che è appena riuscito ci sono già gruppi di lettura su Instagram che è uscito pochissimi giorni fa è la riedizione e appassiona perché appunto si legge davvero come un romanzo cioè è quel gioco con la biografia che che ci ha insegnato a fare Virginia Woolf in fondo no? di giocare ecco allora però siccome voglio parlare anche della tua grande opera cioè dei due volumi dei Meridiani che ho qui che appunto sono una bella mole importante di lavoro beh ti chiedo di raccontarmi un po' beh intanto come nasce il progetto anche qui se fu un'idea tua se fu un'idea di Mondadori se fu Mondadori invece a invitarti a fare questo lavoro perché lo ricordo per chi non lo sapesse esisteva già un Meridiano di Woolf curato da Sergio Perosa che però conteneva le precedenti traduzioni per lo più appunto le traduzioni di Scalero di Celenza di De Angelis ed era un solo volume mentre i tuoi due volumi dei Meridiani sono due uno dedicato ai romanzi ai racconti e l'altro dedicato ai saggi come nasce intanto questo progetto dei due volumi come hai lavorato questo il progetto nasce diciamo da Renata Colorni che a un certo punto è diventata la direttrice dei Meridiani e fu lei a capire che era il momento di rimettere cioè di rifare uno due Meridiani perché quello di Perosa non è che fosse brutto ecco ma era modesto anche come quantità di cose che metteva a disposizione dei lettori naturalmente non è tutto perché ce ne vorrebbero sei di Meridiani per fare tutta Wolf e Renata Colorni che è una donna straordinaria molto appassionata molto molto seria molto autenticamente ecco interessata la cultura i libri eccetera aveva una sua idea di eccellenza che contemplava il fatto che io traducessi tutto e io non ce l'ho fatta perché non potevo tradurre tutto poi in quei così molto cioè insomma ci ha rimesso molto più tempo e poi anche devo dire c'erano cose che non mi andava di tradurre allora io ho fatto un'operazione molto anche di selezione no di scelta e ho deciso come sai no di cominciare in media stress non ho messo i primi due romanzi più tradizionali diciamo La Crociera e Notte e Giorno non mi sembravano così importanti per presentare davvero la 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 di chi vuole li può leggere ci sono tante traduzioni poi anche certo non potevo mettere i diari perché i diari ho fatto una scelta anche lì alcune traduzioni le ho mantenute perché mi sembrava che non fossero male in fondo e quindi diciamo ho lasciato per esempio tra un atto e l'altro adesso anche quello forse bisognerebbe mi rendo conto ritradurlo ho lasciato una stanza tutta per sé perché mi pareva anche quella una buona traduzione e poi perché in effetti diciamo nei saggi adesso forse non tutti saranno d'accordo su questo ma nei saggi nelle lettere eccetera forse la traduzione è sì importante ma non quanto lo siano i romanzi ecco però ho lavorato tantissimo e adesso ripensarci non so come ho fatto perché davvero è stata una molle anche perché poi ci sono tutte le note l'apparato di note esatto c'è tutto l'apparato di note che è quasi altrettanto dei romanzi esatto e però ecco questo l'ho fatto appunto a King's College proprio nella library dove c'erano tutte le cose wolfiane poi mi ricordo sono stata anche alla collection a New York l'America collection esatto esatto e lì ho trovato queste cose meravigliose erano ancora anni in cui io mi ricordo che mi hanno dato in mano proprio a me il quaderno su lei in cui lei ha cominciato a scrivere la signora Dalloway e io avevo questo quaderno con un'emozione spaventosa proprio e mi ricordo che poi girandolo ho visto che dall'altra parte aveva aveva cominciato nello stesso quaderno a scrivere delle note delle coefore stava leggendo le coefore in realtà c'entra ecco è stato un momento di un'emozione straordinaria davvero è magnifico vedere proprio l'inizio come un romanzo cresce e poi quante cose si comprendono se tu non avessi guardato questa cosa ti sarebbe mai venuto in mente di legare le tue cose certo e adesso invece la Berg Collection è accessibile ma ti fanno vedere i microfilm sì esatto infatti adesso è cambiato ma questo era così allora senti oltre a tutto il lavoro per i lettori e le lettrici diciamo hai poi tutto il lavoro per gli studenti all'università quanto è stato importante quanto è stata importante Wolf per i tuoi corsi universitari quanto è stata presente molto molto anche perché ecco davvero io penso di avere un po' rimesso in gioco questa scrittrice perché c'era da una parte appunto l'idea che appunto cioè il grande 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 scrittura inglese del momento era Joyce lui il grande come dire rivoluzionario sul piano della lingua il grande modernista e in un certo senso la Wolf sì ma un po' in ombra e poi comunque una come posso dirti una intelligenza parte di un gruppo di snob eccetera eccetera ecco io penso veramente di aver sfatato questa leggenda perché ecco sicuramente no Wolf è una nella 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 costruzione del modernismo no lei ha lo stesso peso no di di Joyce no ecco aver rimesso in qualche modo in campo l'importanza della sua ricerca in scrittura no e anche secondo me e questo grazie veramente grazie alle donne e anche aver rimesso in campo diciamo una lezione di libertà no perché poi la i libri naturalmente sono hanno anche un valore sociale no allora secondo me i suoi libri hanno davvero insegnato molto alle donne una postura diversa questa postura da outsider no da chi riesce in qualche modo a trasformare un segno nemmeno in una potenzialità in un più no perché d'accordo io sono esclusa ma dal mio punto di esclusione io posso giudicare e posso allargare no lo sguardo su cose che voi che siete dentro non vedete e questa è stata una grande lezione certamente certamente grazie Nadia io ho l'ultima domanda che è la stessa domanda che faccio a tutte le persone che intervisto ovvero se dovessi fare un regalo a una giovane lettore o una giovane lettrice che non hanno mai incontrato che non hanno mai letto Wolf che libro regaleresti ma è difficile allora forse la cosa più semplice forse per farle capire un po' che la Wolf è proprio una stanza tutta per sé perché lì c'è quella storia meravigliosa della sorella di Shakespeare e se invece fosse un romanzo al faro ottima scelta benissimo io ti ringrazio Nadia grazie a te ho perso tanti aspetti molto interessanti che mi saranno anche molto utili e spero anche a chi ascolterà questa intervista grazie mille ancora a te Elisa buon lavoro grazie grazie a te